Martino, no! Diciamo no, esatto! Le serate del sabato sera, facciamo... E' una docu fiction questa! No, invece diciamo no, perché poi te le pubbliche fai il pazzo, te lo amo per il... No! E' totalmente... Scusa! Non so! Scusa Joe! Bellissimo! Mamma che scena che ha! Guarda che bella foto! Continua a guardarmi! Guardami Joe! Vabbè, dice qualcosa! Devi guardare a me! La terra è tonda! La terra è tonda! Sicuro? Sicurissimo! Ci sono tre prove pratiche della dimostrazione che la terra sia tonda! Uno! Aspetta! Una prova che tutti quanti possono confermarmi è che c'è l'orizzonte! Quando ti affacci dalla spiaggia vedi che ci sta una linea lontano e quindi vuol dire che non puoi vedere oltre quella linea! Questo è per via della curvatura del resto! La seconda dimostrazione è che i satelliti si sono stati mandati in orbita! Hanno mandato delle immagini, dette fotografie, che dimostrano che la terra è tonda! La terza è una dimostrazione un po' più matematica! E' derivante dalla ruotazione del resto attorno al sole! E' della distanza e dal tempo che ci mettesse a ruotare! Ci dimostra che compie una circonferenza! Cioè, un'ellissia che va adesso! E che ruota su se stessa! Questo è il termine del cambio e basta! Ma che è una registrazione!